Forse i punti penso sia stato un risultato giusto perché su due pari alla fine hanno avuto una clamorosa occasione dove Festa è stato superlativo, penso a sbaragli la strada, ma come si era messo la partita secondo me sono due punti persi in quanto eravamo riusciti a passare in vantaggio su 2-1, penso su un secondo tempo nettamente dominato. Purtroppo su un'altra pallina attiva abbiamo preso il gol e sicuramente c'è da migliorare e lavorare a settimana su queste situazioni per non perdere punti importanti come oggi.